Allora, ieri pomeriggio, verso le 14.30, è arrivata questa trombataria fortissima che è uscita dal Parco Nazionale di Circeo, ha preso una vasta aria sulla SP Litorania tra Sabaudia e San Felice di Circeo, colpendo serre e capannoni agricoli di cui uno la forza l'ha scaraventato sulla sede stradale. Noi in questa zona, dalla notte del 16 agosto, abbiamo avuto una serie di trompe d'aria, allagamenti su lungomare, siamo stati subito allertati dal sindaco, il generale Alberto Mosca, e con le nostre squadre ci siamo messi a fianco ai vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri di Sabaudia, per le emergenze. La zona colpita è abbastanza vasta perché ha colpito tre comuni, Terracina, Sabaudia e San Felice di Circeo. Questa ultima ha preso soprattutto la zona delle serre, le serre dove piantano gli ortaggi e tutti gli alimenti. Mentre l'altra tromba d'aria, con la pioggia a seguito, ha fatto delle voragini sul lungomare pontino. Grazie. 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 Grazie.